. . . Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e donne, Trono Over, il gesto inaspettato di David. La nuova puntata del Trono Over sarà incentrata sulle vicende amorose di Gemma. . La Galgani si scontrerà duramente con Tina Cipollari per ciò che è successo al castello con Rocco Fredella. Per la dama torinese, il cavaliere interessato solo alla visibilità mentre per la storica opinionista del dating show è proprio la donna a non voler veramente trovare l'amore per rimanere il più possibile nel programma. . Stando alle anticipazioni di Uomini e donne, si parlerà anche di Cristina Incordaia e David Scarantino. Come un fulmine si è sereno, David dichiarerà di essersi perdutamente innamorato di Cristina. Una dichiarazione che lascerà a tutti senza parole. . Il diretto interessato, consigliato da Gianni Sperpi, si alzerà e darà un bacio alla donna. . Dopo lo stupore iniziale, la dama deciderà di lasciare il programma con il cavaliere per provare a rendere stabile duratura la loro storia, lontano dalle telecamere. . L'appuntamento è per oggi, lunedì 18 marzo, alle 14,45 su Canale 5. . . . . . . . . .